Bella manifestazione che c'è in questo posto, un anno abbiamo portato più di 1000 atleti, forse qualcuno di voi se lo ricorda, perché prima questa manifestazione l'ha fatta il 25 aprile, quindi il 25 aprile sono 15 anni che la facciamo a Marrone, quindi questa manifestazione è nata ancora prima. Io ringrazio a tutti, alla Prologa di Cesi che ci ha permesso di rifare questa bella manifestazione. Un grazie a tutti e un grazie anche a voi.